Con le radio nuove della Icom, poi speravo di vedere anche il TH75, il nuovo della Mattia Vultman, c'è solo il DPR e basta, e basta tutto qua. Niente dai, adesso qua ciò si sta un po' arnovolando, ma fa caldo comunque, e niente dai, proseguiremo fino intorno alle 3, poi penso che dopo le 3 non ci sarà più nessuno. Italia Zuzio, con Vittorico, trasmesso. I, W, 7, E, E. Sì, perfetto, allora, buon divertimento, intanto lo sono andato a controllare, il W1 Dai, giustamente Delta Alpha, ecco, Giorgio Massimo, Dai, esattamente come il negozio. Sì, non ho avuto occasione di andare, ne sono degli anni, ma prima o poi un salto ce la farò, dentro le prossime edizioni, e, molto bene, la modulazione del ponte...